Cerca di essere una proposta organica che tratta gli aspetti problematici legati al gioco d'azzardo un pochettino a 360 gradi e questo la contraddistingue anche rispetto ai vari progetti di legge che sono stati presentati anche dal nostro gruppo, in particolare al Senato, oltre che qui alla Camera. L'elemento fondamentale che prevediamo nel disegno di legge è il divieto totale di pubblicità. Abbiamo introdotto l'obbligo dell'utilizzo delle slot machine con la tessera sanitaria oppure con il codice fiscale prevedendo appunto che questo sia lì previsto soltanto per maggiorenni. Abbiamo introdotto il riconoscimento della ludopatia come malattia sociale e dunque l'introduzione della ludopatia è innanzitutto una definizione esatta di quella che è la dipendenza da gioco patologico, quindi una delimitazione del fenomeno. Dopodiché appunto l'introduzione della ludopatia come malattia sociale e dunque anche la conseguente introduzione nella LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza, in modo tale, cioè con tutto quello che questo consegue, in modo tale che appunto chi è soggetto a questa malattia possa poi usufruire di tutta una serie di servizi. Abbiamo previsto l'istituzione di un osservatorio finalizzato a monitorare il fenomeno, l'apertura di conti correnti dedicati da parte degli esercenti, abbiamo previsto l'istituzione di un registro delle scommesse sempre da parte degli esercenti e contemporaneamente un abbassamento della soglia per fare scattare l'identificazione dei clienti ad esempio nelle sale gioco o anche a livello di giochi online. Abbiamo potuto appurare quanto su tutto il territorio nazionale siano già state chiuse o siano in corso indagini che vedono appunto gli interessi della criminalità organizzata strettamente connessi con il fenomeno del gioco d'azzaro.